oggi vi voglio mostrare un attimo questi due anellini che sono arrivati 1 euro 95 l'uno guardate aspettate questo che ha il fiocchetto e il cuoricino e è regolabile quindi va bene tutte le misure e poi c'è questo qui che ha la luna e la stellina brillante presto provo a metterli così li vedete meglio aspettate non è il dito giusto ma è per farvelo vedere e poi se riesco a metterlo con una mano eccolo qua il fiocchetto con il cuoricino per me sono deliziosi ormai ho più anelli che mostro anche questi refill per le penne che sono sempre in gel questo è il pacco da 20 e sono arcobaleno sono bellissime all'intanto si possono usare tranquillamente scusate con la mano solo anche così hanno la punta grande vediamo preso l'unica che non scrive benissimo proviamo scusate andava solo scalata un attimo per le decorazioni è carinissima anche così e poi la deve andare man mano che si finisce sul rosa fucsia non lo so non so se andando avanti i colori si mischiano no però in gel è davvero bella eccola qua e questo era il pacco da 20 che si possono usare così o come refill direi che con oggi è l'ultimo pezzo del video sugli acquisti di wish allora location particolare ma il tavolo impegnato e quindi facciamo in questo modo prima cosa che vi mostro guardate che cosa deliziosa bellissimo fatto bene con le orecchiette culina è bellino anche questo qua era vero 95 più un euro di spedizione 15 ci sta e poi va nel mio mobile daily squishy poi altra cosa che vi mostro devo ancora aprirli questo facciamo assieme non sono bellissimi ora questi sono dovrebbero essere dei correttori eccoli qua allora li apriamo insieme perfetto allora sono piccini perché sono davvero piccini però hanno anche il tappino di copertura fatti molto bene c'è questo viola poi c'è blu facciano altre scritte diverse verde e grigio nero proviamo uno proviamo viola che mi piace cerchiamo un foglio bello il tappino comunque è un correttore classico ci sta e mi piace qui bella l'idea del tappino poi dopo ultima cosa ecco qui rispostiamo questo questo anello eccolo qui fatto così stanno tanto che comunque l'inquadratura da qui non è molto comoda però vengono meglio le video bene allora alla perlina e questo simbolino qui che un mezzo infinito comunque molto bellina aspettate che tolgo questo che ve lo faccio vedere molto bello e soprattutto non avrei mai detto ma l'inquadratura qui sono vengono molto meglio da pensare per i prossimi video ovviamente quelli dove spacchetto le cose allora direi che con questi tutto questa qua è stata davvero una genialata fantastici ed fatemi sapere se vi sono piaciute queste cose se ne avete provate qualcuna se vi incuriosisce qualcosa questo qui è delizioso come sempre spero di aver tenuto un po di compagnia e mi raccomando di mettermi un like se vi piaciuto il video iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanella questa qui così vi verrete avvisate ogni volta che carico nuovo video e alla prossima e sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao